Parlare ai ragazzi di prevenzione per la salute in un periodo della loro vita in cui si sentono giovani e forti, ma anche in un contesto, quello attuale, in cui tutti, grandi e piccoli, stanno vivendo la paura per il coronavirus, tra presunti contagi e fake news. È stato utile anche a fare chiarezza su questi aspetti l'incontro ospitato oggi al liceo scientifico statale Francesco Severi di Salerno, l'ultima tappa in ordine di tempo dello speciale tour dedicato alla prevenzione e promosso dai centri diagnostici Verrengia in collaborazione con l'ASL, la provincia ed il comune di Salerno. In cattedra, nell'aula magna della scuola, esperti per confrontarsi sui ragazzi sull'importanza di avere cura del proprio corpo e fare prevenzione, ma anche l'assessore alle politiche giovanili del comune di Salerno, Maria Rita Giordano, particolarmente attenta a far comprendere ai ragazzi l'importanza di informarsi con consapevolezza su tutto quello che riguarda la salute. La conoscenza è importante a 360 gradi, questa iniziativa ha un valore aggiunto, ovvero quello di preservare la salute e appunto di evitare allarmismi. In questo momento abbiamo veramente un problema con queste fake news che generano anche delle discriminazioni e questo è il risvolto più triste, secondo me, di tutta la vicenda che stiamo affrontando. Avviati già dallo scorso anno, gli appuntamenti con il centro Verrengia nelle scuole prevedono nei prossimi mesi anche tappe in provincia di Salerno, a partire da Cava dei Tirreni. È entusiasta per la risposta avuta dagli studenti della sua scuola in termini di attenzione e partecipazione la dirigente scolastica Barbara Figliolia. Tietemi di ringraziare il centro Verrengia per questa iniziativa altamente formativa, anche perché dove è un luogo migliore, non quello della scuola, per parlare di prevenzione e di salute. Infatti io dedico tanto ai ragazzi questi momenti perché è importante l'attenzione che noi rivolgiamo verso di loro perché sono i giovani che devono comprendere che si devono voler bene. La tappa al liceo Severi ha visto presente anche due atleti di ginnastica Salerno, uno dei quali, Valerio Darino, è stato alunno della Severi e ha tenuto a inviare un messaggio importante ai ragazzi. Fare sport per rafforzare il corpo è il primo strumento per prevenire problemi di salute. Sono qui, sono onorato di essere qua e di essere invitato al liceo scientifico Francesco Severi anche perché sono stato io un ex allunno e quindi mi piace dare un invito particolare agli allunni e ai studenti di questa scuola dicendo di invitare, esortare a tutti i costi di fare sport qualunque questo sia perché lo sport secondo me è l'attività principale per la salute e la prevenzione di malattie e quant'altro.